Buongiorno ragazzi, buongiorno, ritrovati nel mio canale e signori, oggi sono veramente fiero di presentarvi un video veramente, veramente fantastico Perché faccio questa intro? Faccio questa intro perché questa settimana, vi spiego un attimino, ogni due giorni si pubblicherà un video di questo genere con tante sfide diverse su tutti i canali dei partecipanti di questo video Quindi dopo domani, ovvero mercoledì, un altro youtuber, che poi verrete a sapere tramite i loro social, pubblicherà il suo video Venerdì ancora, sabato e domenica invece, e dovrebbe essere pieno Quindi ragazzi, avete una settimana di video fantastici col tiro a bersaglio Raggiungiamo i 60.000 mi piace, ragazzi, i 60.000 like perché probabilmente martedì prossimo avremo intenzione di registrare altre sfide con una palla veramente speciale Che potete trovare nel pre-video di questo video Io vi auguro buona visione, divertitevi ragazzi e buona giornata a tutti Al prossimo episodio Allora quando poi volete venire ragazzi sono pronto per registrare Guarda tutti più lontani Io lo so che fai come l'ultimo Ormai non funziona Bene ragazzi Bene ragazzi Bene ragazzi Ma bravo è l'intro Bene ragazzi mettono qui sul canale di Chiappi Slime Per lo speciale 100 iscritti 1 milione di iscritti Siamo nel terzo speciale Quindi l'ultimo No ma ragazzi guarda che tutti i video da qui a due mesi sono tutti speciali E beh vabbè o regà un milione È un video speciale Perché lui è da quando era bambino che era un bambino speciale È un video speciale Quando poi ci arrivere anche voi fatevi un fisco Oggi siamo qua Allarghiamoci che facciamo vedere cosa c'è qui C'è Giastro Oggi faremo delle challenge Tantissime non potete capire siamo in 18 E faremo 36 challenge Come potete vedere il mio outfit oggi è molto sobrio Sono molto da spiaggia Il capezzolo Bellissimo Ma che è calipo capo Mi hanno preso un tot raga Allora oggi faremo tiro a bersaglio challenge Abbiamo chiamato così Un po' in titolo di italiano Un po' in inglese Siamo le tende del zippario Guarda chiudiamoci No non voglio chiudermi Chiuditi chiuditi Chiudiamoci Chiudiamoci Oggi faremo semplicemente dei tiri Calcolando Ragazzi non ce la faccio più Vabbè il video finisce qua Il video finisce qua ragazzi Lasciate un mi piace un commento Mi dai dai crack Ron Lasciate un mi piace tutto perché Gabbo non ha gli occhiali da sole Esatto Ci mancavano quelli è vero Mi sono dimenticato per fare il tamarro definitivo Comunque faremo 5 tiri a testa Perché se no guarda Ma di destra e di sinistra Abbiamo il tiro a destra Abbiamo il bersaglio Io parlo non mi interrompo più Non mi interrompo più Abbiamo il bersaglio là E praticamente ci sono dei numeri E vabbè sapete come funziona il bersaglio In questa settimana usciranno anche tutti gli altri video Con sfide diverse nel canale degli altri Io non volevo farvi proprio Adesso io ti rubo la telecamera Va bene lasciate un mi piace signori Non è che prima se sei povero c'è quella vecchia Iscrivetevi Se mi hai iscritto in certo Sei per prendere la telecamera Hai aspettato Black Friday Che c'è un riscontro Monti sei proprio un mortaccione Allora il primo a tirare ovviamente Sarà Gabi Squared Allora Chi fa più punti vince ovviamente Ciao sono Frax E ora farò 26 punti Non è possibile Non c'è O rimazza O non ce la faccio 38 Che cazzo vuoi? Così È rosso È rosso È rinanzista però Ciao sono Fandango E farò dei punti Chi fa 11 Chi fa 11 Oh Johnny farà Ciao sono Johnny Creek Non so tirare I am rado elka 50 50 Sommature di Johnny Creek Ma anche in 5 tiri fa 50 Oh 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 Eh ma che merda è Eh no Ma così ne vale Eh no Tanto quanto puoi andare vicino al bel punteggio Tanto quanto puoi sbagliare Ciao sono JR Guarda che farò 7 punti Andai Oh 10 10 9 19 dai 19 È un 6 Coglione È un 6 Barone Oh Non c'è niente da fare Uno che paga per vincere Giastron Un 6 Il nome per l'altro Ragazzi sono capo di squadra Oggi vincerò Giabbo se scureggio adesso Da 100 euro Prendo il 20 raga Vai Vai si attabaccaio Uno Uno Prendo il 2 Una scola Oh Oh Uno Uno Go Che non c'è Sette Sette Vabbè Vabbè Ragazzi Oh 13 4 Che bomb Però la spiglia se prendevo il 13 lì No Sono J-ROM 7 J-ROM 7 6 6 Vabbè Ti da sempre Cosa mi fa Fai schifo Fai schifo Fai schifo Prende solo i 6 Prende Prende Almeno i 6 È proprio Per me Non capisco Stai zitto Fra Non sei bellissimo Cioè sei bello come persona Ma in questo momento No Grazie Troppo Molta Viene Cambio 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 Questo sarà il tiro che farà cadere nuovamente It's raining man Come? 7 Ma quindi scusami se io faccio 50 va però 13 13 13 Si ma adesso è a 16 Poverito Io non fanno te caprone di merda Ma cosa sei? Io ho 12 Io non posso farlo con uno così Hello darkness my old friend 17 Sono concentratissimo ragazzi Io sto a 30 20 30 dopo ci sposeremo I'll be the one if you want Oh 10 10 Signori il campione Heidi questo è per te Devo direi io Oh scusate This is a karma Gabbo prendo 50 No 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 Ragazzi il tiro sbappo attenzione delu incredibile la distrazione 12 poesia ragazzi poesia allora facciamo così ragazzi se johnny crick becca il rosso vale 100 punti no vai c'è frax in porta non ci vedi non ci vedi non ci vedi hai capito johnny se becchi il centro rosso sono 100 punti e hai vinto la sfida perchè sei un po' disabile no dai scherzo ma cosa ma non puoi mettere il video delux quando io dico nooo vuoi toglierlo? mettiamelo dietro la linea mi irritano ma sei irrito lì prima non è evito il tempo così cazzo vuoi ahahahahah non vale non vale perchè mi ha fatto la finta johnny avevi l'occasione delu dai va bene fai ritirare a johnny se la ritiri fuori johnny inizio a distratti oh l'hai fatto che cazzo c'è una balena spiaggiata allora ragazzi attenzione gabo di square in fase di eliting Hans Zimmer forza tre va bene signori pensate che io devo fare tutte le challenge vestite da tamarro vabbè ragazzi allora a 50.000 like uscirò le mie zinne guardate che zinne che ho guarda che finalmente finalmente mi strago l'arma finalmente finiamo finalmente finiamo sto video vieni da una volta vieni da una volta non lo stai pazzazzino di cazzo aia le palle io meglio raga alla prossima 30.000 like per le palle di capo di square oh oh aspetta aspetta oh oh